Sequestrati i beni di un imprenditore con interessi ad Alcamo e Montelepre. Si tratta di Andrea Impastato, 69 anni di Cinisi, uomo considerato dagli inquirenti con pericolose relazioni e figlio di Giacomo Dettus, innacheddo, esponente mafioso di spicco della famiglia di Cinisi e legato a doppio filo alla nota famiglia mafiosa di Dontano Badalamenti e fratello di Luigi, ucciso a colpi d'arma da fuoco a 38 anni in un agguato di mafia nell'81. I sigilli riguardano un patrimonio di un milione e mezzo di euro e ci sono fra questi quote sociali e l'intero compendio aziendale della Adelcam SRL che opera in diale Europa ad Alcamo e la Unicem SRLS di Montelepre oltre che numerosi veicoli e macchinari per la produzione di calcestruzzo conti correnti riferibili alle due imprese con saldo complessivo di circa 80.000 euro e infine assegni bancari per un valore totale di circa 133.000 euro. Ad emettere il decreto di sequestro alla sezione misura di prevenzione del Tribunale di Palermo su proposta della Procura. Andrea Impastatore l'ottobre del 2002 venne arrestato perché accusato di far parte del sudalizio criminoso impegnato ad amministrare e gestire insieme al padrino Bernardo Provenzano. Ad Impastato si arrivò tramite il principale indagato di quell'operazione, Giuseppe Lipari. Nella sua abitazione fu trovato un ingente quantitativo di materiale informatico e gli investigatori erano riusciti ad individuare la fitta rete di favoreggiatori che avevano agevolato la latitanza di Provenzano. Proprio in quest'ambito era emerso il nome di Impastato, indicato proprio dall'allora bossa latitante. Per l'uno e giugno del 2005 era arrivata anche una condanna, la pena di quattro anni di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole di associazione a delinquere di stampo mafioso. Su di Andrea Impastatore gli inquirenti in questi anni non hanno mai distolto l'attenzione. Nel 2013 sempre le misure di prevenzione nell'ambito di un procedimento di prevenzione a carico di Andrea Impastato avevano disposto il sequestro di venosi beni intestati ai suoi familiari, tra cui la società Icocem SRL dei figli Giuseppe Stefano. Nel 2015 la questura di Palermo accertò che questi ultimi avevano costituito una nuova società denominata Unicem SRL con lo stesso oggetto sociale, commercio all'ingrosso di materiale dire e stessa sede operativa a Carini ed ancora stessa compagine sociale, composta proprio dai due figli di Andrea Giuseppe Stefano Impastato, detentori del 50% ciascuno della proprietà dell'impresa. Dopo gli ulteriori accertamenti è emerso che la ditta che opera ad Alcamo nel Velo Europa è di proprietà per il 70% del figlio Giuseppe e per il restante 30% di Giovanna Emistretta, moglie di Vito Cammarata, già dipendente e socio di alcune delle società sottoposte a sequestro. In entrambe le circostanze i soci delle due compagini sociali avevano sempre dichiarato redditi modesti incompatibili sia con la Costituzione e l'avviamento delle imprese commerciali, sia con i successivi investimenti come l'acquisto di materiali e veicoli. Le misure di prevenzione hanno quindi dato vita a quest'altro sequestro, in quanto la Costituzione delle due imprese, quella di Alcamo e Montelepre, costituirebbe uno strumento utilizzato dallo stesso Andrea Impastato e dai suoi figli per eludere il sequestro di prevenzione.